Siamo qui con il presidente della Selle con Noto Catania, Mario Torrisi, una bellissima manifestazione, grande cornice di pubblico in una bellissima atmosfera, insomma. Direi di sì, anche il Padre Eterno ci ha dato una grossa mano in quanto una splendida giornata primaverile ha fatto da cornice a questa grande manifestazione, fatta sempre nel ricordo di quello che è stato il vero ideatore che fu l'Allopennissi, la Noto Catania continua questa tradizione e credo che lo spettacolo di oggi sia indipendicabile, l'Etna dietro in nevata, il mare piatto, il sole che splende a Catania. Quindi è un augurio anche di Catania e a tutte le altre città italiane. Grazie a Mario Torrisi, presidente della Selle con Noto Catania che ha, ricordiamolo ancora una volta, ha organizzato il bellissimo evento.